olé game di xerath support per salutare questa gente ma provo altro non avevo voglia di giocare a trash poi mi hanno piccato due frontlane discrete niente trash support come ho pensato di fare bensì andiamo di xerath con senna support e luciana di carry catex giungla effettivamente mi cancella vediamo se riesco subito a dare fastidio a quelli da preso anche slow prendo la passiva si ha preso dei gran danni bacca non l'ho preso è un pochino troppo range per i miei gusti olé eeeh vediamo questa wave ti do una mano a pusharla con questo direi libro e stivali si aspettiamo qualche gol per gli stivali perfetto non male 1 0 1 ok hanno sbagliato loro ingaggiarci di sopra va bene che luciana è forte in irli ma non bisogna neanche sotto ruotare i danni di un gin mi ha stupito che ho resistito così tanto probabilmente rexos ha dato una grossa mano non 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 Grazie a tutti Ok è dashato, bene Prendo un po' di mana Preso lui Bene abbiamo preso i loro flash Not too bad Grazie 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 Olè Olè Tripla Oh cazzo Grazie 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 sotto con quello porca puttana non hai mica capito non hai mica capito non hai mica capito hai qualcos'altro da dire al signorino qua prendo un po' di way scusa prendiamo la torre va bene va bene beh direi che si ho le tasse beh dai proviamo a prenderla questa va bene allora solo perchè la posso prendere in una by solo prendiamo questo e direi che blue trinket abbiamo qualche red trinket sono l'unico red trinket anche se non dovrei va beh prendiamo questo dai cazzo per oggi ti ho detto di beccare 47 volte li hai ingaggiati senza di me ma sei mica reso conto che lo sto carriando io qua c'ho 11 assist tu hai 13 kill e io ne ho 6 direi che però questa me la posso fare effettivamente mi metto qua mi metto qua bene e io ne ho 6 e io ne ho 6 ma qui mi metto qua mi metto qua mi metto qua Grazie. 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 Pentakill. No, un altro dash. No, 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 no. Yana fa molto, molto schifo, però... Riven che è full vita e non ci prova neanche. Cazzo giochi Riven che non provi neanche a fare qualcosa. Sono tutti low health. Sei una Riven, porca puttana, fai... Danno ad aria infinito. Bello quello lì. Bello quello. E Gini inizia a fidare, bene. Grazie. 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 Bello quello. Grazie. 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 1050... no. non posso aspettare tutti quei gold cazzaroli, mancava poco però dovrei fermare una wave invece che tirare quella ultidivisione jean è grossissimo io sono relativamente grosso noi come bot siamo grossi abbiamo danni fisici e danni magici abbiamo una frontlink che però non è frontlink non posso aspettare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti So, devo farla front line ogni tanto Siete imbarazzanti Un 3v1 e dovete andare a guardare Sarà andata al drago Sì, sì, è andata al drago Mamma, madonna santa Per non dire altro Ecco, fatevi chiudere Geniali Da, da, ragazzi Forse Wukong riesce a girarla con la ulti No, morto Riven fa la front line Quando muoiono tutti Porca puttana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dai, su Ce la fate, vero Madonna Diana che cesso Fortuna che è Diana Allora Healing Redaction Su di chi? Su set Poi mi servirebbe uno Spaccascode Il magiae Ormai non me lo faccio Magic pen Non è che stiamo facendo Tutta questa gran arma Mi faccio questo Ok Oh E Gene sta Facendo cose da Gene Ah, questo è il mio ultimo oggetto Deathcap ultimo oggetto Va bene Dovete stare vicini C'è l'isolamento E via Che spacca tutto Olè 57 Dash Dash Dasha pure Dascia Dascia Olè Dasciate Dasciate GGVP vergognatevi grande Jean Botlane Forever ti meriti il mio honor ho cuore o bandierina però mi sei piaciuto mi dicevi good job my bad mi sei piaciuto un sacco S più per il mio Xerath support not too shabby il gettone olè più onorato ah io non ho fatto nulla un miliardo di kill però c'è un motivo per cui quel miliardo di kill io guarderei gli assist e mi ricorderai ah ma è vero che c'è aveva un support grazie questo so già chi me l'ha dato lo so già per caso i danni c'è imbarazzante imbarazzante questi sono imbarazzanti sono secondo dopo Jean anche Diano un assassin imbarazzante va bene questo è tutto per oggi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo bye 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 Grazie.